Sono veramente fiero del fatto che qui abbiamo 28 opere di Luca Signorelli, tutte insieme in questi due ambienti, cioè una piccola mostra, ma ricca di oggetti che sono tra di loro molto vicini. E io direi un Signorelli puro. Non abbiamo inserito altri artisti, non abbiamo inserito un apprendistato, i suoi allievi, non abbiamo messo neanche i suoi disegni. E' proprio lui come artista, come dipintore. Cortona accende i riflettori sull'opera del suo più illustre cittadino, scomparso nel 1523, 5 secoli fa. E' stata inaugurata la mostra Signorelli 500, maestro Luca da Cortona, pittore di luce e poesia. Luca Signorelli è l'artista cortonese del Rinascimento, conosciuto in tutto il mondo, che ha reso grande Cortona in tutto il mondo. Questa è la più grande mostra che è stata organizzata negli ultimi tempi a Cortona. Quindi un investimento molto importante con una grande rete, una grande squadra, per rendere omaggio al grande artista cortonese Luca Signorelli. Circa 30 le opere provenienti da musei italiani e stranieri e da prestiti da collezioni private dell'artista del Rinascimento in esposizione, nella mostra curata da Tom Henry, il maggior studioso internazionale del pittore. Racchiude delle opere mirabili anche al di sopra delle nostre aspettative e soprattutto riesce a collocare Signorelli nella posizione che merita, cioè come uno dei più grandi artisti del Rinascimento. Lo ricordiamo, ha ispirato Michelangelo, Raffaello, nel corso della sua vita e anche successivamente e questo deve renderci orgogliosi. Si tratta della più importante ed ampia esposizione mai dedicata al grandissimo artista di cui si celebrano i 500 anni dalla morte. Ci sono pochi gli artisti del 400 di cui si parla dell'invenzione. Per Vasari solo Filippino Lippi e Signorelli per il 400 hanno avuto questa mentalità, questo approccio. Per me questa è la sua innovazione più concreta, perché dà la luce agli altri che seguono di come si può approcciare i soggetti in un modo insolito. Parlando di tre opere in mostre, io direi l'Annunciazione, la Crocifissione Annalena è la palla di Martellica che per la prima volta abbiamo portato insieme i sei pezzi rimanenti per esporli insieme. È tipo un puzzle, un po' studiare come uno va accanto all'altro. L'allestimento si trova nelle sale del Museo dell'Accademia Etrusca e della città di Cortona per proseguire in un percorso che comprende il Museo Diocesano, il Palazzone, le Chiese di San Nicolò e San Domenico, poi gli itinerari turistici alla scoperta dell'autore grazie al protocollo d'intesa con le città signorelliane. Voglio superare 83.002, questa è una cifra che ce l'ho in mente, a quel punto noi saremmo il più visitato mostro signorelli mai successo.